kent l'elefante ciao bambini sono kent l'elefante e oggi sono al parco giochi oggi impareremo tutto quello che si trova in un parco giochi urrà non amiamo tutti andare al parco giochi indovina cos'è questo è lungo e ha due maniglie una per ogni lato va su e giù so che cos'è hai indovinato è una trave oscillante molto bene su e giù su e giù e questo sembrano delle altalene le mie preferite ottimo lavoro avanti e indietro avanti e indietro cos'è questa è una giostra sì e questo cosa potrebbe essere un cavallo un cavallo a dondolo sì cos'è questo una paletta e un secchiello deve essere una sabbiera sì amo fare i castelli di sabbia cos'è questo anche questo è uno dei miei preferiti è uno scivolo andiamo e ancora è una spagliera sì arrampichiamoci è così divertente allora bambini cosa ne pensate abbiamo indovinato tutti gli attrezzi del parco giochi complimenti è stato così divertente non vedo l'ora di andare a giocare forza venite con me ciao sono kent e mi piace tanto stare in fondo al mare guarda quanti animali del mare non sarebbe bello contarli abbiamo uno due tre quattro cinque sei sei sette otto nove dieci dieci piccoli squali guarda qui uno due tre quattro cinque sei sette otto nove nove dieci 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 pesci pagliaccio non è stato bellissimo contare in fondo al mare ora cantiamo una canzone sui numeri dai ciao mi chiamo kent che giornata meravigliosa è vero oggi preparo una torta adoro cucinare facciamo cuocere 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 e mischiamo 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 delizioso chissà che cos'è quell'odore buonissimo è quasi fatto wow vediamo per renderla perfetta aggiungiamo un po' di glassa al cioccolato deliziosa forza look sbattiamo sbattiamo non vedo l'ora è fatta qualcosa un profumo delizioso wow andiamo wow kent questa torta sembra così deliziosa possiamo averne un po' sì certo che puoi io vorrei della torta io vorrei della torta anch'io dobbiamo imparare a condividere quindi dividiamo la torta in parti uguali come facciamo come faccio a dividere questa torta in quattro parti uguali per prima cosa dividiamo la torta in due metà un pezzo per mumu un pezzo per Luke un pezzo per Tim e l'ultimo per me yeeey abbiamo diviso equamente la torta fantastico ed è così squisito e delizioso mmm è sempre bello condividere ciao amici come va oggi sono qui per insegnarvi i colori siete emozionati wow mi chiamo kent sono un elefante intelligente mandato qui per il tuo divertimento guardami mentre volo nella mia macchina è così bello sto attraversando il colore blu cosa ci aspetta ora scopriamolo nella mia macchinina è così divertente ecco il rosso andiamo lo vedo oh è fantastico colore rosso colore rosso dove sei? e eccolo rosso e eccolo rosso yeeey qual è il prossimo? sono un bravo ragazzo e ho bisogno di un bel giallo yippee mi chiamo kent sono un elefante intelligente mandato qui per il tuo divertimento wow wow yippee qui superiamo la linea gialla giallo qui superiamo la linea gialla giallo quale sarà il prossimo? la mia macchina è... arancione wiii mi chiamo kent sono un elefante intelligente mandato qui per il tuo divertimento e viva ho superato la linea arancione arancione il prossimo il colore della macchina è verde! andiamo! è fantastico! imparare i colori è molto divertente! ho superato la linea verde verde! la mia macchina è di un bel rosa non credi? qui! mi sto divertendo un mondo! sì! ci siamo quasi! e ho superato la linea rosa! ciao ciao! è una bellissima giornata di sole! ciao uccellino! la mia ricerca del giorno! wow! una mappa del tesoro! tu sei qui! devi attraversare il ponte entrare nella foresta poi attraversare il mare e infine in cima alla collina dell'isola del tesoro troveremo il prezioso tesoro! questo sarà un viaggio così emozionante! andiamo! oh! guarda una macchina rossa! questa mi aiuterà a attraversare il ponte! sì! sono alla ricerca di un tesoro! vieni con me vero? sarà così divertente! sì! sembra che abbiamo raggiunto la foresta! è fantastico! posso viaggiare attraverso la foresta in questo monster truck! benissimo! oh! è molto divertente! le ruote del camion girano e girano, girano e girano, girano e girano per tutta la foresta! è ora di dire addio al nostro amico monster truck! perché guarda! la mia barca è qui! e mi aiuterà a attraversare il mare! sì! sono alla ricerca di un tesoro! vieni con me vero? sarà così divertente! sì! finalmente abbiamo raggiunto la cima della collina! un elicottero! che emozione! amo pilotare gli elicotteri! sono così vicino al tesoro! mi chiamo Kent! sono un simpatico elefante! l'elicottero è il mio assistente! si! ce l'ho fatta! finalmente lo straordinario tesoro! apriamo la scatola! un aeroplano d'oro! wow! ne è valsa la pena! continua a guardare Kent l'elefante! ciao amici! sono Kent l'elefante! facciamo un gioco divertente! un puzzle sui mezzi di trasporto! sì! cominciamo dalla macchina! oh rosso! il mio colore preferito! quale pezzo faremo per primo? un pezzo d'angolo! è una grande idea! sembra il suolo! quello deve essere di nuovo l'albero nell'angolo in alto! sì! ben fatto! hai trovato il pezzo inferiore! quello sembra parte di un finestrino! oh sì! ottima idea girare al contrario! c'è il pezzo più alto della macchina! un po' di recinzione! quella è la maniglia della portiera! quella anteriore! il cielo e la nuvola devono essere in alto! e l'altra maniglia della portiera! e questa è la parte anteriore della macchina! facciamo le ruote! sì! facciamo l'altro lato del recinto! e infine la ruota anteriore! sì! ottimo lavoro! ce l'hai fatta! facciamo uno scuolabus! partiamo di nuovo dagli angoli? yay! il pezzo in basso! sarà la strada! e il cielo nell'angolo in alto a sinistra! e l'angolo in alto a destra! ben fatto! dov'è quello in basso a sinistra? eccolo! facciamo un po' di cielo e la cima dell'autobus! oh! sembrano dei finestrini! sì! vanno sul fondo! e una ruota? altro cielo! wow! lo stiamo componendo bene! guarda un po' di erba e alberi che devono essere sul davanti! ultimo pezzo di cielo! eccellente! i finestrini devono andare accanto agli altri finestrini! e gli ultimi finestrini! facciamo la ruota! oh! ci sono degli alberi! e un po' di nuvole in cima! e il resto della strada? e il fondo del bus? molto bene! le ruote dell'autobus girano e girano! oh! un bel camion! lo adoro! è un camion per i safari! ora puoi indovinare quale pezzo va dove! oh sì! una nuvola nell'angolo! la strada è l'erba in basso! e questo deve essere l'angolo in alto a destra! alcuni fiori! oh! giralo! è una nuvola! e quella sembra della strada! sì! a volte dobbiamo girare i pezzi perché non sempre sono nel verso giusto! sembra la parte in alto! sì! qualche fiore in più che deve essere il fondo una ruota! una ruota! la ruota anteriore! quella deve essere la ruota dietro! yay! e quella deve essere la parte anteriore dove sono gli alberi! e la maniglia della portiera! ottimo! ce l'hai fatta! molto bene! incredibile! è stato molto divertente! bravi ragazzi! ci vediamo la prossima volta! ciao! oggi impareremo come costruire un parco giochi! siete pronti? iniziamo! yay! sei emozionato? sarà molto divertente! eccomi lunedì! ciao! ciao lunedì! guarda che cos'ho! guarda qui! ho un piano per il parco giochi perfetto! sì! per prima cosa posizioniamo alcune piastralle di gomma per il pavimento ora la base per il sottomarino ottimo lavoro signor camion! metti tutto insieme! questi camion di costruzione sono così utili! sì! fantastico! e non è lì! ora che ne dici di un periscopio per il sottomarino per una vista romantica? è fatto! ottimo lavoro! ora fissiamo i lati dello scivolo benissimo! ora portiamo il set di altalene e l'altra altalena sì! grazie! ottimo lavoro! ecco che arriva lunedì con la giostra! wow! che emozione! cosa abbiamo qui? stelle meravigliose per il nostro parco giochi! wow! non vedo l'ora di giocare! bellissimo! ce l'abbiamo fatta! ottimo lavoro a tutti! ecco! scendo dallo scivolo! ui! yeee! queste altalane sono fantastiche! è come se stessi volando! questo è il giorno più bello di sempre! il mio parco giochi è il più bello di sempre! ciao! ciao bambini e bambine! sono kent l'elefante! il vostro amico! è quasi arrivato quel momento dell'anno! natale! e amo decorare il mio albero di natale! mettiamolo qui! vado a prendere le decorazioni! ehi! guarda kent! che decora l'albero! facciamogli una sorpresa! iniziamo! ecco la stella le decorazioni le palline le campane e i bastoncini di zucchero! è così bello e brillante! perfetto! no? amo questo periodo festivo! oh! chi è alla porta? devono essere i miei amici! vediamo! chi c'è? oh! nessuno? lasciamo gli regali qui! veloce! beh! sembra che non ci sia nessuno! wow! cosa sono? regali per me? ma da parte di chi? sono tim e look! i miei migliori amici! sì! che bella sorpresa! che bellissimo natale! buon natale a tutti! ciao bambini! sono kent! vi piacciono i puzzle? sì? allora giochiamo! oh! che bella mucca! mu! chissà quale pezzo andrà dove? questo sembra un pezzo di cielo! giusto! proviamo anche alcune delle macchie sul corpo! e un pezzo di cielo? forse dall'altra parte! sì! ora facciamo gli altri angoli! dove è l'ultimo? eccolo! facciamo la testa! mi sa che è al contrario! sì! esatto! lampeggiato di verde! quando lampeggia di verde significa che è corretto! ora la recinzione al centro e un altro pezzo di recinzione con la campana della mucca! e dell'altro cielo con l'orecchio della mucca! esatto! e dell'altra recinzione sarà sulla sinistra! dell'altro cielo e ora il fondoschiena della mucca! e abbiamo degli zoccoli adesso! quello davanti! e per ultimo ma numero importante il pezzo in basso al centro! sì! ottimo lavoro! mu! mu! sì! un piccolo pulcino alla gallina! con cosa iniziamo? facciamo gli angoli! quello a sinistra! mmm! quello in basso a destra che sarà il prato del cielo in alto a destra e ancora prato in basso a sinistra! facciamo la faccia della gallina! bene! e un pezzo della staccionata! se guardi bene dove sono i bordi dritti dei pezzi sarà più facile capire dove vanno! bene! abbiamo delle zampine altra staccionata sulla destra e ancora del cielo! benissimo! facciamo il prato e la pancia del pulcino! e perché non anche la pancia della gallina? mi sa che al contrario! ottimo! e ora facciamo gli occhi del pulcino e anche gli occhi della gallina! e per ultimo abbiamo i piedi della gallina! sì! ce l'avete fatta! benissimo! una gallina e il pulcino! cip 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 oh! un cavallo! carinissimo! con cosa iniziamo? gli angoli di nuovo? sì! l'angolo in basso a sinistra e ora un angolo in alto a destra puoi vedere dove sono i bordi dritti e capire dove vanno facciamo il barile in basso a destra e ora? mmmm mi sa che al contrario! e lampeggia di verde! gli occhi del cavallo! e oh! una ruota con la corda sopra! i zoccoli del cavallo! ottimo! ora facciamo al contrario il naso del cavallo e lampeggia di verde! la sella e la parte restante della criniera e ora facciamo alcuni pezzi laterali e gli zoccoli dietro del cavallo e ora il pezzo in alto al contrario per entrare bene e in basso e la coda del cavallo e per ultimo ma non meno importante l'ultimo pezzo dell'albero! bravissimi! l'avete completato! un cavallo molto felice! chissà cosa c'è dopo oh! un carinissimo maialino! iniziamo con gli angoli? sì! fantastico! foglie in basso a destra e altre nell'angolo in basso a sinistra ora troviamo del cielo sì! cielo con la staccionata in alto a destra e alcuni fiori nell'angolo in alto a sinistra ora facciamo il naso del maialino dall'altra parte! sì! si illumina di verde! e ora altri pezzi del terreno e la staccionata perché il maialino è seduto nel fango all'interno del suo recinto oh! ancora staccionata sulla destra e questo è lo zoccolo del maialino mettiamolo lì! fantastico! ultimo pezzo di staccionata vicino alla testa del maialino e altro fango! ora facciamo gli occhi del maialino assicurati che sia dalla parte giusta altro fango e il braccio del maialino e l'altro braccio dall'altra parte e ultimo ma non meno importante la pancia del maialino benissimo! sembra che si stia divertendo tanto a giocare nel fango oink oink è stato bellissimo giocare con voi! a presto! ciao! sono Kent! wow! cos'è successo qui? oh mamma! la mia stanza è così disordinata! è ora di pulirla! mi aiuterai? iniziamo! non vedo l'ora di avere la mia camera pulita e ordinata! dobbiamo raccogliere tutti i miei giocattoli e metterli negli scaffali pronti? wow! il mio pallone da calcio! e i miei due palloni da basket! chissà quanti palloni posso mettere nella mia credenza! quanti ce ne sono per ora? mi aiuti a contarli? vediamo un pallone da calcio e due palloni da basket uno più due quanto fa? contiamo! uno due tre! giusto! uno più due fa tre! sì! ce l'abbiamo fatta! abbiamo imparato a sommare! ecco che vanno sui miei scaffali! le mie macchinine! guarda quante macchinine che ho! rosse e gialle! brum brum! vediamo ho due macchinine rosse e due macchinine gialle! quante andranno nel mio armadio? sommiamole! uno due tre quattro due più due fa quattro! abbiamo capito! yay! brum brum! mettiamole sullo scaffale! oh e il prossimo è? i miei libri! quanti libri? tre libri rosa tre libri blu tre più tre fa? sommiamo! uno due tre quattro cinque sei! giusto! tre più tre fa sei! ottimo! siete così bravi a sommare! è così facile! mettiamole sugli scaffali! bene! ora puliamo il pavimento! cos'altro possiamo trovare? perché non dei pastelli? sì! ne ho così tanti! quanti ce ne sono? quattro pastelli verdi e quattro pastelli blu! uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! giusto! quattro più quattro fa otto! ottimo! bravi! ecco che vanno sugli scaffali! la mia stanza sembra così pulita ora! siete i migliori ragazzi! grazie per l'aiuto! ciao amici! come state oggi? sono Kent, l'elefante! e oggi impariamo a conoscere diversi tipi di forme! riuscite a indovinare di che forma si tratta? questo è un quadrato! ora lasciami trasformare questo quadrato con la mia bacchetta magica! abracadabra! apri apri la mia scatoletta magica! ehi! oh! cos'è successo? yippee! uhu! questo è così magico! sono quadrati! quadrati rossi! oh! ora qual è il prossimo? è... una stella! lascia che metta questa stella nella scatola magica! ci entra perfettamente! mi chiamo Kent e sono qui per il tuo divertimento! abracadabra! apri apri la mia piccola scatola magica! ehi! apriti! questa scatola è piena di magie! quante stelle! stella stellina! sei così verde e bella! una stella verde! scopriamo quale forma impareremo adesso! oooh! questo è un rettangolo! eccoci qui! mi chiamo Kent! sono un simpatico elefante! possiedo una bacchetta magica! e con questo rettangolo creerò uno stagno magico! wuhuu! abracadabra! apri apri la mia scatoletta magica! no! non di nuovo! apri dai! apri dai! oooh! è blu! adoro questo colore! e tu? rittangoli! blu! qual è il prossimo? questo è un cerchio! sei pronto per il mio super trucco di magia? ecco la mia bacchetta magica! abracadabra! mi chiamo Kent! sono un simpatico elefante! il mio colore preferito è il rosa! qual è il tuo? dai! non di nuovo! apriti scatola! sì! ecco la rosa! un cerchio rosa! riuscite a indovinare quale sarà la prossima forma? un rittangolo? o è una stella? è un triangolo! abracadabra! apriti apriti mia scatoletta magica! su scatolina apriti! wow! evviva! questo è giallo! festeggiamo! triangoli gialli! ciao ciao amici! arrivederci e alla prossima! ciao ragazzi! wow! perché questa ruota viene verso di me? ehi! aspetta! yay! insegnare i colori è il mio obiettivo! ecco perché mi piace fare questo gioco! perché non si muove? andiamo sbrigati! sì! uno due tre quattro di che colore è? rosso! wow! guarda quante palline stanno saltando fuori! rosso! ciao! sono tornato! e anche la ruota! sì! mi chiamo kent! sono un simpatico elefante! insegnare i colori è il mio obiettivo! ecco perché mi piace fare questo gioco! mmm! questa freccia è di nuovo incastrata! mmm! oh! eccoci! uno! due! tre! quattro! di che colore è la porta? giallo! così luminoso e bello! giallo! ciao ciao! ciao! ecco di nuovo la ruota dei colori! impariamo altri colori! io mi chiamo kent e sono un simpatico elefante! insegnare i colori è il mio obiettivo! ecco perché mi piace fare questo gioco! facciamolo ancora! facciamolo ancora! oh! mmm! sì! uno! due! tre! quattro! di che colore è la porta? pensa! pensa! è rosa! guarda! l'esplosione dei palline! rosa! così tante palline rimbalzanti! ehi! ti piace questo gioco? guarda! la ruota dei colori è tornata di nuovo! la ruota dei colori è tornata di nuovo! sì! eh! 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 la freccia è bloccata ancora una volta! avanti freccia! per favore! muoviti per Kent! sì! uno! due! tre! quattro! di che colore è la porta? verde! wow! verde! ciao! a presto! a presto! ehi! momu! è il tuo compleanno! stai organizzando una festa? no Luke! non mi va di fare una festa! oh oh! perché mumu è così triste? ho un'idea! organizzerò la migliore festa sorpresa per lui! la prima cosa di cui abbiamo bisogno è una torta di compleanno! ho intenzione di cuocere una buonissima torta alle fragole! ed è fatta! sono sicura che a mumu piacerà tantissimo! la mia torta rosa sembra deliziosa vero? wow! una torta buonissima! posso averne un po'? no Kent! questa è per la festa sorpresa di mumu! ecco! puoi gonfiare un po' di palloncini! guarda! un palloncino blu per le decorazioni! yay! eh ragazzi! tutto sembra fantastico! guardate! ho portato dei cappellini da festa arancioni! non sono bellissimi? tutto fatto! yay! eh guardate! mumu è qui! sorpresa! wow! è fantastico! grazie! ecco il tuo regalo mumu! guarda! è una statola verde! è stata una giornata divertente e abbiamo imparato anche i colori! una torta rosa palloncini blu cappello da festa arancione e... un pacco regalo verde! spero vi siate divertiti! alla prossima! iscriviti al canale Kent l'elefante! per la prossima! per la prossima! per la prossima! per la prossima!